Amici sportivi, amici fantallenatori, buongiorno, bentrovati dal vostro veterano di Fantacalcio. Come sempre utilizziamo tutti i giorni dell'anno per avere grande supporto a tema Fantacalcio. Grazie agli amici di Fantalab utilizziamo questo spazio per esaminare quelli che sono gli 11 consigliati da Fantalab, non tanto come top 11 certezze, ma come top 11 giocatori interessabili al vostro Fantacalcio. Prima di partire come sempre vi ricordo di utilizzare questo spazio per avere approfondimenti a tema Fantacalcio utilizzando il link qui sotto di Fantalab avrete l'accesso anche all'area consigli, consigli che possono essere utilizzati sia per gli abbonati sia in live come talvolta mi succede, sia appunto consigli generici a tema Fantacalcio utilizzato perché davvero Fantalab è il futuro di noi amici fantallenatori. È la giornata numero 20, la prima del giorno di ritorno, attenzione perché sarà un 2024 spumeggiante a tema Calcio e Fantacalcio, quindi partiamo subito molto carichi verso quello che ci aspetta come potenziale vittoria a Fantacalcio o quantomeno potenziali e ottime prestazioni perché chiaramente come dico sempre il Fantacalcio non è una scienza esatta quindi non si vince per forza ma il nostro ideale, il nostro desiderato è quello di avere delle ottime squadre per fare delle ottime performance e per tentare di vincere a Fantacalcio. Partiamo dunque con l'8.11, in porta mettiamo Terracciano, 8.1 la scredibilità per lui, in caso contro l'Udinese un match sulla carta sostenibile, non semplice, chiaramente la Fiorentina ha cambiato un po' pelle, Terracciano era un po' destinato alla panchina, poi a fior di buone prestazioni ha convinto mister italiano a essere lui il titolare, chiaramente ha un po' cambiato pelle come dicevo italiano perché ha mutato un po' la sua fase molto aggressiva, molto offensiva, in una fase un po' più conservativa e infatti anche la fase difensiva ne ha beneficiato in maniera importante e Terracciano ha fatto diversi clean sheet. In questo caso la scredibilità 8.1 può derivare appunto da una potenziale porta inviolata nel match contro l'Udinese in casa, lo speriamo per gli amici fanta allenatori che appunto supportano Terracciano. In difesa Capitano Di Lorenzo non sarà un match semplice, è il derby campano, una serenitana molto aggressiva a tema appunto salvezza, mentre a Napoli ci sono parecchi e questioni che devono essere ancora diramate come appunto quello della buona, quantomeno sufficiente prestazione che lo ottenne in caso contro la serenitana, lo otteniamo perché Napoli deve un po' invertire chiaramente la rotta dopo il 3-0, subito in trasferta a Torino chiaramente deve essere un po' un banco di prova. Si parla di calcio marcato per lui, Napoli in generale, ma Di Lorenzo chiaramente è fisso e inammovibile. La scredibilità è un 7.9, si attende anche una ottima prestazione sia per i modificatori di difesa sia per eventuali bonus a fanta calcio. Attenzione anche ai rientranti Romagnoli, in casa la Lazio contro il Lecce, un match più o meno sostenibile, non sarà semplice chiaramente perché Lecce è molto aggressivo anche in trasferta. Lazio che viene da una settimana un po' trebolata dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Roma, match applicato di polemiche, non si porta degli strascichi a livello di tenuta fisica, Romagnoli deve un po' recuperare la condizione ottimale ma chiaramente può essere schierato. La scredibilità è un po' bassa, 6.5 perché? Perché appunto il campione di Fanta Lab recupera le ultime prestazioni, chiaramente avendone fatte poche Romagnoli deve un po' rimigliorare questo dato, ma è sicuramente un match sulla carta per lui molto sostenibile. Attenzione anche a Calabria, 6.4 la scredibilità per lui, in casa contro la Roma un match non semplicissimo per la squadra rossonera che è stata eliminata in Coppa Italia dall'Atalanta ma chiaramente vorrà riprendersi subito. Una Roma in trasferta un po' timida, mediamente, quindi la difesa rossonera può sicuramente subentrare. Attenzione, ve lo dico come riserva potenziale per i fantacalci manageriali del futuro, a Terracciano che sta facendo davvero molto molto bene e quindi potenzialmente può avere futuro con la casacca rossonera. In centrocampo io e Fanta Lab abbiamo messo Vlasic, 7.8 la scredibilità per lui, giocatore che sta avendo una crescita importante, chiaramente Juric si fida moltissimo di lui, è un giocatore che ha classe, talento, deve essere al meglio fisicamente, lo sarà a brevissima, quindi ha già segnato contro il Napoli il 2-0 ma chiaramente vorrà ancora migliorare. A Genova non sarà una sfida semplice, è una sfida che potenzialmente può essere da pochi bonus, ma sicuramente il talento croato può essere schierato in questo match. Attenzione anche a Barella, 8.4 per l'escrivita contro il Monza, anche qua non un match semplice, potenzialmente in alternanza con Frattesi, ma sono giocatori che possono fare bene anche con pochi minuti, quindi chiaramente Barella va schierato sempre comunque in un match che sarà molto energico, molto elettrizzante e a Monza non sarà semplice perdente, un banco di prova che qua è importante, ma chiaramente Barella è un top di reparto, quindi va schierato. Attenzione anche a Ferguson, 8.6 la scrivete per lui, torna dopo la squalifica, in trasferta a Cagliari, un match che si preannuncia da potenziali bonus, lo teniamo in tanti amici fanta allenatori perché appunto deve essere e vogliamo che ci siano tanti bonus, soprattutto dal giocatore scozzese che tanto bene sta facendo al fantacalcio già negli anni passati consigliato al veterano, vedete i video su Ferguson già della stagione 22-23. Attenzione anche Kostic in casa contro Sassuolo, Juventus che saprà già il risultato dell'Inter a Monza, ma chiaramente la Juventus deve vincere tutte le partite e vorrà farlo anche questo match, chiaramente con Kostic che deve migliorare ancora di più il livello di finalizzazione, può essere una partita con potenziale più tre in un match davvero interessante per l'esterno juventino. Un tre dente di fuoco ma abbastanza low cost con Sanabria, il giocatore paraguaiano che può andare a timbrare in trasferta a Genova, chiaramente Sanabria ha bisogno di fiducia, a differenza di Zapata è un po' più uomo da manovra offensiva, chiaramente Sanabria ma chiaramente può fare molto bene, attenzione perché il Genoa in casa è una squadra che subisce pochissimi gole, quindi Sanabria deve un po' colpire tra le linee difensive, e attenzione perché appunto non ci sarà Dragusin che è partito destinazione Tottenham e quindi soffrirà sicuramente un po' la fase difensiva con l'assenza di Dragusin che tanto bene ha fatto quest'anno e tanto bene è stato consigliato dal veterano. Secondo attaccante è Ngoje in casa contro l'Empori in un classico match da salvezza, 6.1 la scalabilità per lui, attenzione alle voci di calcio in mercato che lo riguardano, tante squadre pretendenti, Napoli, Fiorentina e tante altre, attenzione perché vorrà confermarsi ancora il giocatore decisivo, attenzione però alle polemiche in casa veronese con i tifosi che hanno contestato asparamente la proprietà. Ultimo attaccante è chiaramente Scamacca, in casa come vedete l'uomo a copertina, Scamacca in casa contro il Frosinone, Frosinone preso a sverle dalla Juventus in competale 4-0, Frosinone che vorrà fare sicuramente bene in questo match ma non sarà semplice, Atalanta in casa che comunque si difende molto bene a livello di bonus offensivi, quindi in questo caso Scamacca potrebbe essere della partita già dall'inizio con De Keter in panchina, e quindi per lui è una scalabilità 7.7, è una scalabilità assolutamente sulla carta sostenibile. Io vi ricordo, vi trovate anche nella descrizione qui sotto, che rispondiamo ai commenti in diretta direttamente su Fanta Lab, utilizzate perché avete tantissimi supporti a vostra disposizione, tutti gli indici di scalabilità, i consigli sulla formazione, è un consulto sempre fornito da me, che sono il veterano e sono uno degli esperti del canale di Fanta Lab, ma da tutti gli esperti che tante volte appunto supportano invece i Fanta allenatori nelle scelte decisive per il loro Fanta Calcio. Quindi massima attenzione perché questo è veramente uno strumento indispensabile per il vostro Fanta Calcio, dovete fare questo passaggio perché sicuramente ne beneficerete in maniera ottimale, vedrete non ve ne pentirete, ormai sono più di due anni che ho sposato questo grande investimento che appunto è Fanta Lab, utilizziamolo al meglio per avere grandi soddisfazioni in tema Fanta Calcio. Vi aspetto presto, un abbraccio a tutti voi da veterano, fate un link qui sotto passando anche a iscrivervi al canale e per chi vuole anche ad abbonarsi. Un abbraccio, ciao ragazzi!